Frank! Che c'è? Dove stai andando? A Carrefour! E' la quinta volta che vai oggi, ma che devi fare? Devo fare una spesa e poi i commessi sono gentili e mi portano a fare le passeggiate! Ma che passeggiate? Dai dimmi la volta! Ma dai dove andai? Frank aspettami, vengo anch'io! Da cavolo è finito! Passeggiana! Grazie!